Nella prima lettura di questa quinta domenica di Pasqua ascoltiamo il capitolo nono del libro degli Atti degli Apostoli quando Saulo viene a Gerusalemme dopo la sua conversione. Cerca di unirsi ai discepoli ma questi hanno paura e non se lo prendono. Allora ci vuole Barnaba, figura meravigliosa, figura di accoglienza, figura che sa valorizzare. Barnaba è un discepolo che capisce il valore di Saulo, lo prende e lo introduce in nome della sua propria autorevolezza. Ecco viene unito, viene accolto, viene incluso Saulo e allora Saulo è libero, può annunziare il Vangelo e può usare il Vangelo con pienezza di efficacia anche perché finalmente è unito al corpo. Ecco cosa unire, cosa rifiutare, di cosa aver paura, cosa ammettere, cosa lasciar fuori. Questo fa da introduzione a questo Vangelo di questa domenica, il capitolo quindicesimo, i primi versetti del capitolo quindicesimo di Giovanni che è questa parabola, questa analogia della vite e dei tralci. siamo in tre ruoli, la vite è il Signore Gesù, i tralci siamo noi e il padre è il vignaiuolo, l'agricoltore, il coltivatore, colui che coltiva la vite. E che succede? In questa parola c'è qualcosa di profondamente illuminante. Ogni tralcio che in me non porta frutto il padre lo taglia e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Tagliare, potare? Cos'è sta storia? Come funziona questa logica qui? Questa è una strategia. Siamo di fronte a un protocollo che compare. Il padre lavora così con noi. Dobbiamo capire. Allora, se un tralcio non porta frutto, il padre lo taglia. Se il tralcio non porta frutto, che è colui che non rimane in me, dice Gesù, non si ferma dalle impianti mie, non va adottando una tecnica di stare da me solamente di passaggio. Chi non si ferma con me viene gettato via come il tralcio e secca, poi lo raccolgono, lo gettano al fuoco e lo bruciano. Una parola terribile, l'infruttuoso. Questo viene tagliato dal padre. E invece quando un tralcio porta frutto e finalmente funziona e siamo contenti, siamo nel momento quello che ci dà pienezza, curioso, lo pota perché porti più frutto. Cioè, se non porta frutto, lo taglia. Se porta frutto, lo pota. Ma questo vuol dire che taglia sempre questo signore è sì, taglia sempre. Noi dobbiamo partire da una intuizione. Noi abbiamo sempre l'idea di avere poco. La verità è che abbiamo sempre troppo. Noi crediamo che la vita sia installarsi, la vita è viaggiare, la vita è muoversi, la vita è evolversi. E qualunque pellegrino sa, qualunque vero viaggiatore sa, che più è grosso il bagaglio, peggio viaggi. Più è piccolo il bagaglio, più si diventa sapienti. Quando uno è molto esperto di viaggi, si porta a poche cose, perché sa varie cose. Primo, che ci sono tante cose nel posto in cui va e tante cose che gli mancano, le può tranquillamente trovare lì. Secondo, ha bisogno di poco. E questo è quello che noi sappiamo. Crescendo nell'esperienza con Dio, sappiamo sempre che tante cose Dio provvederà lì dove ne avremo bisogno. Dio ci darà ciò di cui abbiamo bisogno. Secondo, che abbiamo bisogno di poco quando stiamo con il Signore? Perché il Signore è proprio tanto. E allora che succede? Certo, la nostra vita è una crescita nella semplicità, è un processo di semplificazione. Quindi vuol dire essere liberi dalle cose che non portano da nessuna parte. Il padre taglia queste cose. Come taglia? Con atti violenti? No. Si allontana da quelle cose. Quelle cose muoiono da sole. Poi arrivano gli uomini, prendono e buttano via questa roba. E questo è anche un discorso ecclesiale. Perché ci sono rami morti in tante cose che noi facciamo. Vengono gli uomini e ci buttano via. Non gli interessiamo più. E dobbiamo fare un esame di coscienza serio sul fatto che molta gente non è interessata da ciò che noi abbiamo da dire. Perché siamo rami secchi. Non portiamo vita. Perché siamo staccati dal padre. Siamo autoreferenziali, autocelebrativi. E noi vediamo che non è tanto il mondo che ci disprezza, ma il padre che non è mai stato in quelle cose che erano solo nostre iniziative. Dobbiamo sempre fare un profondo esame di coscienza su questo punto e accogliere certi no che la realtà ci dice come una parola in cui Dio ci sta dicendo guarda che le mie cose hanno l'eternità dentro. Passano per crisi pasquali, passano per annullamenti ma risorgono. E se questa cosa non risorge proprio per niente? Forse se questa cosa sta così facendo di solo perdere tempo, forse semplicemente non è mia, ci dice il padre. E poi invece quelli che portano frutto li pota. Interessante. Bisogna chiedersi. Come si fa a potare una pianta? Dove si pota una pianta? Quante volte ho fatto questo discorso con i giovani e chiedendolo trovo che pochissimi sanno potare una pianta. Bisogna un po' imparare a fare queste cose. Beh, in genere una pianta si pota dopo la prima o la seconda gemma, è esattamente subito dopo. Se la seconda gemma è buona, è promettente, allora si taglia subito dopo la seconda. Se invece la seconda è un po' un po' poco convincente, si taglia dopo la prima. Perché? Niente oltre il frutto, non una virgola oltre ciò che è fruttuoso. Stiamo parlando del fatto che nella nostra vita ci sono tante zavorre, tante cose che dobbiamo lasciare che Dio ci tolga. Tante volte di opera dei tagli, perché qui è l'agricoltore quello che porta avanti lo schema, non è un perfezionismo nostro. E il padre fa questo, molto spesso nella nostra vita, e tante volte tanti tagli, tante perdite, tante cose che ci vengono tolte, anziché piagnocolare, lamentarsi, odiare, accogliere. Il Signore voleva fin qui, non oltre, non un millimetro oltre ciò che è unito a lui. Tutto ciò che è fuori dall'unione con il padre, non porta da nessuna parte, è per il fuoco, è per il nulla, è per la corruzione. Che bello questo testo che è una sapienza, una sapienza molto seria e profonda, quella che ci insegna a liberarci o lasciarci liberare da tutto ciò che non ci porta al cielo. Quando San Filippo Neri diceva preferisco il paradiso, o una frase analoga a questa, intendeva proprio questo, ciò che mi unisce alla vita vera me lo tengo e lo preferisco. Preferire il paradiso non era una scelta così di menù esistenziale, no, era istante per istante, istante per istante lasciarsi portare nelle cose che vanno verso il paradiso e lasciare ciò che ci porta nel vuoto. Questa vita in folle, che tanti vivono, sgassano ma non partono, tanta vita passata a fare cose che non portano da nessuna parte. Anche nella nostra vita cristiana perdiamo tanto tempo in convenevoli e in burocrazie ecclesiali che non portano da nessuna parte e che non vuol dire che non ci sia bisogno di un certo ordine, di una certa precisione, ma che bisogna stare molto radicati nella sostanza, nel frutto, nella bellezza. Il Signore ha pensato alla vita di ognuno di noi con una vita fatta per sbocciare. Quello che ci fa sbocciare, tenerselo stretto. Quello che ci implode, lasciarlo subito.